carissimi amici siamo tutti qui riuniti con padre ottavio con gabriella per augurarvi buon natale e buon anno nuovo ecco gabriella che natale sarà questo sarà un natale pieno di vita ma soprattutto di speranza bellissimo questo e padre ottavio il 2021 andiamo avanti con profonda fiducia perché dio ci vuole bene in cristo gesù dio innamorato di noi e questo ci dà forza e garanzia di non mollare vedrete che andrà bene 2021 sarà un bel anno interiore anche allora diciamo insieme andiamo avanti con fiducia anses c'è ciao 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 ciao